Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla positiva vicenda che riguarda il diploma conseguito da Samuele di Natale, il ragazzo autistico di Gela che ieri a sorpresa ha ricevuto a casa la telefonata del premier Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio dei Ministri si è congratulato, Samuele ha anche espresso il desiderio di incontrare Gerry Scotti, assicurato un intervento del Parlamento nazionale sulla mancanza di centri diurni per autistici in città. Vediamo. La telefonata che non ti aspetti è che arriva. La bella storia di Samuele di Natale, 19 anni, il ragazzo autistico di Gela che ha affrontato gli esami di maturità all'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo, ha profondamente colpito anche il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. E ieri il premier si è personalmente congratulato al telefono con il ragazzo. Una telefonata durata quasi nove minuti. Sono molto contento per tutti voi, per Samuele in primis e anche per i professori che sono stati, mi sembra di capire, non male, giusto? Samuele, nonostante l'emozione, si è rivolto al presidente del Consiglio, dandogli del tu. Ciao Presidente! Bravo Samuele, sei stato bravissimo! Complimenti! Grazie! Nel corso della conversazione telefonica, la mamma di Samuele, provvidenza in furna, ha evidenziato il problema del dopodiploma. Io le parlo da madre. Noi viviamo in un paesino, provincia Cascanissetta, a Gela, no? Non abbiamo niente con le strutture, non c'è nulla. Abbiamo fatto 16 anni di satti mortali, mi creda. Terapia tutta privata. Potevamo 600 euro al mese. Stogliendo il nuovo stipendio di 1200 euro, mi creda. Rimaneva di mangiare pasta a mezzogiorno e forse alla sera, per farli capire. Per me è fondamentale che il paese dia una mano a chi voglia. Quindi questo è semplicemente... Però oggi voglio soltanto, quindi prendo buona nota anche delle considerazioni che ha fatto. Spero qui accanto a me c'è Faraone che si possa anche intervenire, trovare qualche formula per intervenire per il dopo, come dice lei. E evitare che si debba vivere le difficoltà che avete vissuto voi. Voglio dirle che c'è un impegno personale mio fortissimo, ma rispetto a Gela voglio garantirle che ho parlato con l'iniziatore legato dell'Eni anche qualche giorno fa. Noi continueremo a investire perché credo che sia una cosa fondamentale per quel territorio. Samuele ha espresso al Premier un desiderio. Vuole incontrare il conduttore televisivo Gerry Scotti. Chiamo Gerry Scotti e organizziamo qui a Palazzo Chigi, chiedo a Gerry di venire e vieni anche tu. Facciamo una cosa, ora organizziamo e facciamo una cosa tutti insieme. Settembre, ottobre organizziamo questo appuntamento con Gerry Scotti. Grazie Presidente. Il papà di Samuele, Orazio Di Natale, ha chiesto l'attivazione a Gela di un centro di urno per autistici. Sentiamo cosa ha risposto a tal proposito il Premier Matteo Renzi. Facciamo così, Davide si occupa del centro di urno perché poi conosce molto bene la regione e l'argomento. E io organizzo con Samuele e anche con voi, invitiamo anche voi, dai, Gerry Scotti sarà un mio impegno personale. Udienza presso il Tar del Lazio per dibattere il ricorso presentato dal coordinamento NOPEOS formato dai comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento e dalle ex province di Agrigento e Caltanissetta, dai comitati NOPEOS di Gela, Butera e Licata contro la realizzazione di un parco eolico offshore da costruire a due miglia marine dal bagnasciuga della spiaggia antistante al castello di Falconara nel Golfo di Gela. Il Tribunale si è dichiarato propenso a chiedere di esprimersi alla consulta in merito ad una osservazione presentata dai legali del coordinamento sul perché l'autorizzazione fosse stata concessa pur in presenza di un divieto vigente nel piano energetico regionale. Il Tribunale dovrà inviare gli atti alla consulta e attenderne la sentenza. Se la competenza venisse assegnata al Tar di Palermo, si legge in una nota firmata da Maria Ferrera e da Giovanni Giudice del comitato NOPEOS Gela, si dovrebbero reinviare gli atti a Palermo. In caso contrario, fissare comunque una nuova udienza di merito. Tutto ciò, dicono Ferrera e Giudice, ci consente di esprimere un moderato ottimismo perché allunga ancora di più i tempi per la decisione finale e questo depone a nostro favore. Apriamo adesso la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi degli arresti eseguiti nella notte a Gela in manette quattro ragazzi dediti a furti di auto e moto nel Ragusano. Vediamo. Sono accusati di essere gli autori dei furti avvenuti a Comiso e a Santa Croce Camerina a partire dallo scorso ottobre fino a gennaio scorso e danni dei proprietari di otto auto, due frugoni, un motociclo di grossa cilindrata e tre moto. Ed ancora di 30 colli di rete metallica. Gli obiettivi principali erano auto di piccola e media dimensione e motocicli e furgoni di lavoro. In più occasioni si aggiravano per le strade di Santa Croce Camerina e di Comiso ma non disdegnavano Ragusa e Acate perpetrando i furti in ore notturne travisati con cappucci di felpe e berretti. Adesso sono in carcere, sono tutti gelesi, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ragusa e del reparto territoriale di Gela e dagli agenti della polizia di Comiso e del locale commissariato. Le manette sono scattate ai polsi di Gianluca Scollo, 31 anni, Salvatore Nicola Michael Marretta, 26, Francesco Caci, 27 e Vincenzo Cassisi, 30 anni. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego. Le ordinanze sono state emesse dal GIP Claudio Maggioni. I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle investigazioni, aprivano i veicoli per poi spostarli spingendoli a mano lontano dalle abitazioni in modo da non provocare rumori che destassero sospetto e una volta al sicuro li mettevano in moto per portarli via senza perdere tempo. Se il mezzo dava qualche problema nel momento dell'avviamento, i ladri non perdevano tempo prezioso e lo lasciavano abbandonato, come è successo ad una Fiat 500 rubata a Comiso e trovata abbandonata sulla strada che conduce a Chiara Montegulfi o un furgone Turbo Daily Iveco rinvenuto a Santa Croce Camerina a breve distanza dal luogo del furto. Un motociclo invece è stato addirittura trainato dall'autovettura usata dai malviventi per arrivare a Santa Croce Camerina fino all'uscita della città, dove in un secondo momento è stato messo in moto e portato via. Dalle indagini è emerso anche che i ladri depositavano i mezzi rubati in un garage dove poi venivano smontati e venduti. Inoltre gli stessi hanno utilizzato lo stesso modus operandi per aprire il garage da dove sono stati portati via i motocicli da cross. Grazie all'acquisizione della ripresa delle videocamere a circuito chiuso di alcuni negozi è emerso non solo il numero delle persone che materialmente hanno operato i furti, ma soprattutto la loro abilità adottata per aprire e asportare veicoli e anche le vie di fuga utilizzate dagli stessi una volta commesso il furto. Tutte le azioni criminose, oltre ad avere recato un danno economico alle vittime, hanno destato preoccupazione tra gli abitanti della cittadina ragusana. Durante l'esecuzione delle misure cautelari, gli agenti di polizia e carabinieri hanno effettuato anche cinque perquisizioni, quattro agli arrestati e una presso l'abitazione di un quinto uomo indagato per gli stessi reati ma non destinatario di ordinanza custodiale ed hanno sequestrato due auto modello Fiat 500, una Vespa Piaggio 125 sulle quali saranno effettuate certamente circa la provenienza ed ancora quattro centraline di vari modelli di autovetture notoriamente utilizzate per sostituire quelle originali delle macchine da rubare e un rilevatore di frequenze utilizzato per verificare la presenza di dispositivi di intercettazione. Adesso ci occupiamo dell'inchiesta avviata dalla DDA di Milano con al centro reati tributari, riciclaggio e associazione per delinquere con l'aggravante della finalità mafiosa. Agli arrestati erano riconducibili alcune aziende a cui erano stati affidati appalti per l'Expo in manette. Anche un noto avvocato di Caltanissetta, ex presidente della Camera Penale, Nissena. Vediamo. Arrestato per riciclaggio Danilo Tipo, avvocato penalizzato il professionista Nisseno, ex presidente della Camera Penale fino a qualche mese addietro ed ex assessore consigliere comunale. Il professionista Nisseno è stato arrestato dal GICO della Guardia di Finanza di Milano a Caltanissetta. Tra i capi di imputazione e riciclaggio con la finalità di favorire Cosa Nostra, 11 gli arresti nell'operazione su appalti e corruzione all'Expo. Al centro dell'inchiesta c'è il consorzio di cooperative Nominus Sclar specializzato nell'allestimento di stand, il quale ha lavorato per la fiera di Milano dalla quale ha ricevuto in suppalbalto l'incarico di realizzare alcuni padiglioni per l'Expo, tra cui quello della Francia e della Guinea equatoriale. Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai PM Paolo Storari e Saraombra, le società del consorzio erano intestate a prestanome di Giuseppe Anastasi, principale indagato arrestato con il suo collaboratore Libero Pace e l'avvocato Nisseno Danilo Tipo, ex presidente della Camera Penale. Le società coinvolte ricorrevano ad un sistema di fatture false per creare fondi neri. Il denaro era poi riciclato in Sicilia dove gli indagati avevano legami con la famiglia di Cosa Nostra di Pietra Persia. Il Gico della Guardia di Finanza sta effettuando un sequestro preventivo di circa 5 milioni di euro. È stato intercettato anche un camion partito dalla Lombardia e diretto in Sicilia con dentro ben 400 mila euro in contanti, soldi sequestrati in quanto riciclati. Le fiamme gialle questa mattina stanno effettuando una raffica di perquisizione tra la Lombardia e la Sicilia, eseguendo il sequestro di beni fino a 5 milioni. Nel corso delle indagini ci sono stati sequestrati 400 mila euro in contanti trovati in un camion guidato da Liborio Pace, collaboratore di Giuseppe Nastrasi, amministratore del consorzio Dominus e altri 300 mila euro trovati in una 500 macchina guidata dall'avvocato Danilo Tipo. Agli 11 arrestati sono contestate a vario titolo le accuse di associazione per delinquere fine guizzata a fatture false per reati tributari, riciclaggio, appropriazione in debite da alcuni degli indagati, tra cui Anastasia Pace e l'aggravante anche di aver favorito Cosa Nostra. Torniamo a Gela per riferirvi della conferenza stampa tenuta dall'assessore comunale Licia Abela. Vediamo. Si arricchisce di una linea telefonica lo sportello antiviolenza Angelas istituito al comune di Gela lo scorso 8 marzo. Il numero di telefono da cui rispondono le assistenti sociali è 0933 906745. Lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela che ha presentato il servizio attivo tre giorni alla settimana così come previsto dal relativo progetto rivolto a donne e minori vittime di qualsiasi tipo di violenza. I giorni di apertura dello sportello sono il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Una linea telefonica a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza violenza non solo fisica ma anche psicologica, economica di qualsiasi tipo. Un servizio che va a supporto e a potenziare quello che è già l'attività dei nostri collaboratori ai servizi sociali. Il numero da chiamare è 0933 906 745, il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Quindi un supporto sia telefonico ma anche ovviamente la possibilità di incontri personali qui al secondo piano del plesso dei servizi sociali presso il comune di Gela. Ovviamente la rete è una delle caratteristiche principali dello sportello Angelas. Infatti qualora ci fosse bisogno non mancheranno supporti psicologici, anche delle forze dell'ordine, anche supporti sanitari qualora appunto venisse richiesta in base alla tipologia dell'intervento. Quindi una vera e propria rete che si mette a disposizione dei minori e delle donne vittime di violenza. Qualsiasi essa sia, questa può essere in qualche modo tutelata e aiutata all'interno di questi spazi. C'è stata una grossa spinta per attivare anche questo servizio telefonico nella maniera più veloce possibile proprio per dare un supporto anche a chi dovesse avere l'esigenza, avesse in qualche modo delle reticenze a recarsi presso gli uffici fisicamente. Quindi una linea telefonica che possa essere a supporto delle donne per esempio che possono anche avere dei momenti di particolare bisogno di supporto psicologico. Penso ad un postpartum, penso a dei momenti particolari nella vita di tante donne, di tanti minori che in questo momento vivono una situazione magari di disagio. Quindi proprio a loro io rivolgo la mia attenzione, il mio pensiero, visto anche gli ultimi fatti di cronaca molto gravi che si sono succeduti in città. Le soluzioni ci possono essere, i professionisti sono a disposizione e qualsiasi tipologia di situazione nella quale appunto ci si possa trovare può sicuramente trovare una risoluzione in una maniera molto semplice e molto professionale. Quindi il mio invito è quello ad utilizzare questi strumenti che il Comune e tutta la rete mette a disposizione perché nessuno debba sentire l'esigenza di, nemmeno il pensiero deve essere sfirato, di pensare di fare dei gesti estremi. Nel contesto dell'itinerario biblico sulle opere di misericordia proposta dal Vicariato di Gele e dal Movimento della Divina Misericordia, domenica 10 luglio prossimo Monsignor Michele Pennisi, già vescovo di Piazza Armerina, tratterà la decima opera di misericordia. L'arcivescovo di Monreale, dopo aver visitato la piccola Casa della Misericordia, presiderà alle 19.30 la celebrazione eucaristica e la conferenza nella chiesa del Rosario di Gela. Lo scrittore Gaetano Savatteri, giornalista di Mediaset e autore di romanzi di successo, sarà ospite del club Vela Gela. Domani alle 21.00 converserà con il sociologo e giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina, sulla nuova edizione dei ragazzi di Regalpetra. Il libro, scritto edito da Melampo, che racconta la lunga guerra di mafia che agli inizi degli anni 90 inseguinò una parte della Sicilia. Venerdì 8 luglio, sempre alle 21.00, altri incontri al club Vela. Si parlerà di canapa industriale e della reintroduzione della cultura in Sicilia. Con l'aiuto dei relatori presenti, si cercherà di sgombrare il campo dei pregiudizi e di valutare gli impatti economici e ambientali che ritorno alla coltivazione della canapa può avere sul territorio. L'evento è organizzato con la collaborazione di Omega Benessere di David Melfa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo riferendovi dei movimenti che si registrano nella chiesa dei Cappuccini di Gela. Arriva infatti un nuovo parroco. L'attuale sarà trasferita a Ragusa, ma ci sono anche altre novità. Le sentiamo in questo servizio. È stata ripristinata una vecchia usanza. La statua della Madonna rimane qui per otto giorni dal giorno in cui si è svolta la processione e non più nel posto dove l'abbiamo sempre vista. Sì, anche perché diventa una lettura molto bella. Durante il settenario la Madonna era in alto, in tutti i gelesi, in tutta la città è venuta a trovarla. Rientrando dopo la processione abbiamo scelto di lasciarla qui. Non è più la città che vieni a trovare, ma è Maria che viene a trovare la città. Cioè si mette nello stesso piano. Una vicinanza non solo fisica, ma una visibilità di questa vicinanza di Maria spiritualmente presente in noi. Infatti tutte le celebrazioni di quest'ottava per ogni giorno stiamo facendo una memoria di Maria, Madre del Buon Consiglio, Madre della Gioia, Madre del Signore, per sottolineare ancora di più la presenza di Maria nella nostra vita. Per quel motivo, tornando un attimo indietro, la processione quando non si è fermata in via Manzoni dove era stata anche allestita a una festa vera e propria. A me è arrivata una difida, una difida che davvero vietava il sostare in via Manzoni, come dice proprio la difida. Pertanto, al fine di evitare i rischi e i pericoli per la incolumità fisica dei fedeli in processione, si invita la Codesta Parocchia a transitare per la pubblica via Manzoni e a non esvolgere alcuna fermata o sosta all'altezza del numero 100, dove c'erano le palassine che hanno problemi, come la via stretta. Abbiamo scelto di fare il desfogliamento all'inizio di via Manzoni e poi passare per via Manzoni e fermarci solo sul lavatutto, sul benzinaio che c'è, solo transitare, non fermarci. Ma per un motivo molto semplice. C'è questa difida che una settimana prima della palassina numero 100 mi è venuta a portare. La legge venne osservata, non osservata come voglio me, ma osservata secondo i dettami della legge stessa. Per lei è stata l'ultima professione, l'ultima festa della Madonna delle Grazie perché se l'ha trasferito e arriverà il nuovo parroco. Arriverà anche il nuovo viceparroco. Sì, il nuovo viceparroco. Ieri il governo della provincia, il ministro provinciale con il suo consiglio è stato radunato e hanno eletto Fra Luca Bonomo che è stato con noi in questa settimana. Lui sarà il nuovo parroco. A fianco a lui prenderà il mio posto come viceparroco, Fra Emanuele Lattale, che attualmente lavora anche, fa un servizio al carcere a Gelle. Quindi verranno questi due. Io e Fra Corrado siamo stati trasferiti alla città di Ragusa, a una nostra parrocchia, Sacra Famiglia, che è anche un'altra parrocchia molto grande che sicuramente avrà bisogno di noi. Che porterà lei Gela nel cuore a Ragusa? Guarda, io ringrazio. Ringrazio innanzitutto alla comunità parrocchiale, la città, tutte le relazioni a Rocco che mi ha evitato in questa comunità parrocchiale. Tutto ciò che abbiamo fatto assieme, come parrocchia, come comunità, io porterò nel cuore la città. I testimoni di Geova in questi giorni hanno avviato una campagna speciale per invitare tutti al congresso di zona del 2016. Saranno più di uno, avranno come tema Rimaniamo le ali a Geova. L'evento gratuito si terrà da venerdì 8 a domenica 10 luglio prossimi. Nella sala delle assemblee di Caltanissetta incontrerà da Casale, località Canicassè. Durante la tre giorni del programma si susseguiranno 49 interventi, ognuno dei quali approfondirà il tema della lealtà. Inoltre, appositamente per quest'evento, i testimoni hanno preparato 35 video e due brevi film che saranno proiettati sabato e domenica. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali. La Libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'Assessorato Comunale alla Cultura presenta il libro Le contraddizioni del mentre di Ornella Sgroi. Appuntamento previsto per venerdì 8 luglio prossima alle 19.30 all'Eschiro Lab. Conversa con l'autrice e lo scrittore giornalista Maurizio Nicastro. Lettura a cura delle attrici Maria Carla Aldisio e Maria Giannone. Auto parcheggiate in divieto di sosta sulle strisce pedonali in prossimità degli scivoli per i disabili un centro storico senza regole. A dispetto dei segnali stradali e della presenza dei vigili molti infatti non rispettano le prescrizioni previste dal codice della strada e spesso accedono nell'isola pedonale in corso Umberto soprattutto nelle ore notturne o non rispettano gli orari della zona traffico limitato in corso Vittoria Emanuele. Gli servizi dei quali la nostra redazione più volte si è occupata e di cui ancora una volta siamo tornati ad interessarci questa volta andando a trovare il comandante della polizia municipale per chiedergli quali interventi sono previsti in centro storico per risolvere il problema premesso come dichiarato dal comandante Diego Beruga che al momento non è possibile avviare servizi notturni vista la carenza d'organico del corpo. Solo 62 ai vigili a disposizione del comando. Per quanto riguarda nello specifico il centro storico a seguito dell'istituzione della zona traffico limitato e dell'area pedonale che già era esistente prima abbiamo in corso la redazione di un progetto per un controllo elettronico della zona e ci sono delle postazioni che verranno allocate in alcuni punti di accesso al centro storico e chi non osserva la segnaletica collocata i diritti di accesso i diritti di sosta o l'area pedonale è il sistema elettronico stesso che verifica la targa del mezzo controlla se è un veicolo autorizzato o meno ad entrare e qualora non risponda a questa situazione eleva la relativa sanzione in modalità automatica. Questo è un sistema abbastanza complesso per poterlo realizzare e come è ovvio necessitano delle risorse che in base di bilancio e condiamo vengano approntate il progetto è in corso di redazione e una volta realizzato l'impianto e avuta l'amologazione ministeriale il sistema effettuerà questa attività in maniera automatica non c'è l'esigenza dell'operatore di polizia che proceda ad accertare le relative violazioni. L'attività non si ferma solo al centro storico perché la città non è solo fatta di questa parte del territorio è importante dove ci sono tante problematiche ma puntiamo anche a una maggiore efficacia nel controllo del territorio anche nel resto della città. A tal fine abbiamo già acquistato ed è nei prossimi giorni dovremmo ricevere la consegna uno strumento elettronico da collocare su una pattuglia che consente di effettuare delle verifiche diciamo a strascico dei veicoli che sono in sosta nelle varie parti della città. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela domani alle 21.30 è prevista la rappresentazione nabbriscola della compagnia teatrale antidoto. La rassegna si concluderà a settembre l'ingresso di 5 euro a coppia sabato 30 luglio e si terrà l'esibizione di Giobbe Covatta. Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.